un saluto a tutti i nostri ascoltatori di fly tv benvenuti per questo nuovo appuntamento l'angolo del libro abbiamo qui con noi in versione primaverile la nostra vice direttrice nonché conduttrice Ilaria Moniato buongiorno Ilaria buongiorno direttore senti Ilaria ma oggi non abbiamo un libro ma vedo addirittura sullo schermo questi due libri ci vuoi accennare qualcosa noi abbiamo con noi oggi Marta Serra ha scritto due libri persi fra i battiti dei nostri cuori e appunto anche poi un altro libro comunque lei ci racconterà meglio dopo perché perché ne ha scritti due buongiorno Marta buongiorno a tutti e due ecco Marta allora io comincio subito faccio la prima domanda veloce veloce ecco com'è che hai cominciato a trovare in te questa passione per scrivere allora in realtà ho incominciato un po per caso nel senso che quando ero adolescente non amavo né leggere né scrivere come tutti gli adolescenti di oggi poi col tempo mi sono approcciata al romanzo ho incominciato a leggere tantissimi romanzi rosa e mi sono appassionata alle storie d'amore e allora ho detto perché non scrivere anch'io una storia tutta mia e allora ho incominciato così diciamo però diciamo che leggere i libri fa tantissimo infatti e tu hai qualche autore di riferimento poi che ti ha ispirato un po di più allora ho in realtà mi mi sono appassionata a tante storie di giovani autrici come me che non sto neanche a delencare perché sono talmente giovani non è che si sentono tanto però mi sono appassionata così poi ovviamente ho i più grandi come nicola sparks federico moccia che vabbè sono forse per me quelli che mi hanno un po più ispirato nel relativamente romanzi però come dicevo prima mi sono molto approcciata con degli autori poco conosciuti diciamo così ok volevo chiederti tu hai scritto queste due storie d'amore noi le abbiamo qui davanti ecco si vedono bene le copertine e persa fra le tue braccia e persa fra i battiti ecco del tuo cuore dei nostri cuori io volevo chiederti innanzitutto questi due libri perché sono tutte e due ambientati al college di nondra prima di tutto poi seconda cosa cambia il nome dei personaggi cambia un po la situazione resta sempre questo amore questa passione per i ragazzi un po i belli perché ho notato che in tutte e due i libri c'è questa figura di diversamente ma caratterialmente molto simili ecco e quindi ci vuoi raccontare perché l'ambientazione nel college e come mai questi due libri e uno poi che segue l'altro insomma ecco sì allora londra mi è sempre piaciuta purtroppo non ho ancora avuto modo di andarla a visitare era uno dei programmi di quest'anno poi con il coronavirus e tutto quello che è venuto con tutto quello che è venuto è andato via però è una città che io adoro quindi spero che di riuscire ad andare a visitare al più presto e quindi ho preso come mutazione proprio londra mi sono informata e ho detto perché no usiamo questa città la differenza come dicevi come dicevi te e l'aria i protagonisti maschili sono tutti e due dei bad boys ma perché hanno ragazze diciamo che sono sempre legate a questa figura meno nelle fantasie è sempre così poi magari finiamo con dei ragazzi anzi bravissimi modelli però diciamo che hanno le nostre fantasie vanno sempre su sul ragazzo bad boy statuato e con una vita un po' spericolata ok e quindi diciamo tu hai scritto questi due libri ma uno sembra quasi seguito dell'altro quindi tu alla fine hai scritto all'inizio una storia di emi e di appunto dopo c'è comunque raccontaci un po' tu che è meglio insomma nel senso certo certo e l'ambiente è sempre quello ma anche sembra l'ambiente diciamo di frequentazione è un po' quello alla fine giusto giusto sì perché tutte e due come dicevi te sono ambientati al college di londra la prima storia parla appunto di emi che parte da malta per andare a affrontare appunto questa questo college a londra e lascia un ragazzo a malta il suo ragazzo con cui è fidanzata da cinque anni arriva a londra e in questo college incontra alex che è come dicevamo il classico bad boys del college qua se ne innamora e il punto fondamentale del primo libro appunto è proprio la scelta della protagonista su questi due amori completamente diversi uno molto più come si può dire quasi fraterno comunque i ragazzi si conoscono da cinque anni c'è un legame molto profondo e uno un po' come si dice alla scoperta del personaggio del suo modo di essere un po' così come tormentato con tutta la sua storia che c'è sotto poi saranno le conseguenze i fatti a fare in modo che emi trovi poi alla sua strada e questo è il primo romanzo che è perso tra i battiti dei nostri cuori che è questo qui esatto facciamolo vedere bene ecco questo qui mentre nel secondo diciamo che è sempre ambientato al college di londra le due protagonisti femminili e i due protagonisti maschili si conoscono tant'è che sono amici però nel secondo la protagonista è Grace una ragazza socievole piena di amici mentre emi era molto più timida e è incentrato tantissimo sul passato di entrambi i due protagonisti perché entrambi hanno un passato che vogliono scoprire nel senso che la prima Grace scopre di essere adottata e quindi tutto il libro è incentrato su questo sul fatto che lei non sa più chi è in realtà vuole scoprire da dove viene ma è spaventata mentre il protagonista maschile Mike che come dicevi te è sempre un bad boy della situazione ha un passato alle spalle molto tormentato che in realtà lui cerca di nascondere cerca di nascondere di non far vedere anche a Grace tenendola lontana nonostante ne sia comunque innamorato e poi vabbè non so svelare tutto il libro però è inventato su quest diciamo ok volevo chiedere ed è questo esatto vado a vedere meglio così ecco così almeno facciamo pure scusa una domanda che ho sì ma il nome Emi come ti è venuto da dove viene questo in realtà è un nome che mi è uscito così non l'ho mai sentito non conosco nessuno che si chiami Emi cioè è un po' particolare è proprio perché era un po' particolare che non era tanto diciamo sentito risentito risentito mi è parso così una sera mentre scrivevo ho detto ma sti usiamo questo e allora invece Grace perché Grace ce ne sono famose Grace è più infatti Grace è molto più sentito però volevo riprendere l'iniziale di mia sorella che è Giada e quindi ho detto e poi è sempre un po' metato su Londra lei è una ragazza di Londra quindi ho preso un po' il nome Grace anche perché sai che c'è stata una famosa Grace Kelly che comunque ha fatto storia per cui è certo per leganza per storia per affinatezza ma anche per cultura è una persona molto molto particolare è stata una principessa di nascita insomma è nata è nata predisposta giusto volevo chiederti invece qualche personaggio da cui tu hai preso dalla tua vita che tu hai poi invece visto ti sei un po' ispirata non so chiedo magari senza fare nomi ovviamente sì sì certo no in realtà entrambi i due ragazzi che sono Mike e Alex di tutte e due le storie ho preso spunto ma a grandi linee dal mio ragazzo nel senso nella storia c'è sempre qualcosa di lui e quindi ho voluto metterli in entrambi i due protagonisti maschili come nei protagonisti femminili c'è sempre qualcosa di me sia in una che nell'altra e quindi quindi sia un aspetto chimico che quello più estroverso cioè una cosa sì bravissima bravissima e quindi ho voluto prendere un po' due facce due facce sì aiuto sai come prenderti bravo giusto giusto ecco cosa volevo dirti e pensi che potrai scrivere qualche altro romanzo hai già qualche altro romanzo nel cassetto che vorresti o che stai già preparando magari allora la saga di questi due libri è finita cioè non penso di andare avanti però attualmente sono un attimo ferma ma ho incominciato un romanzo a quattro mani con mia sorella inventato sul carcere di Roma però è ancora da buttare giù nel senso che è molto appena iniziato diciamo quindi un tema molto più duro di questo diciamo si cambia un problema in questo caso perché lì è magari sempre sul genere storia d'amore sempre bravissima però devi scrivere di una realtà che è più difficile da raccontare che è molto giusto diversa da quella che viene definita normalmente nel diciamo nel pensiero comune perché non è non è così tutto rose e fiori come sembra è vero è vero è vero e quindi c'è questa idea qua ovviamente bisogna informarsi bisogna vedere tutto beh è dura è una documentazione che ti cambia un po' appunto e ti fa maturare parecchio perché vai incontro a tanti luoghi comuni che non corrispondono purtroppo assolutamente a quello che è la società interna beh dai comunque sono contenta perché sei giovane e affronti questa cosa adesso quindi praticamente tu pensi di scriverlo a questa stagione e a breve ve lo farai pubblicare quindi credo al nostro direttore magari se avrebbe piacere di magari di sentirti più avanti con questo libro invece assolutamente infatti volevo fare una domanda Marta sì la casa editrice qual è? è la calvinato editore di entrambi i due romanzi calvinato editore benissimo benissimo international international ti conosciamo benissimo oltretutto anche la casa editrice dei miei due libri tutti dello chef siamo molto contenti Marta noi vediamo comunque anche la porta è aperta per il prossimo libro che come abbiamo capito è molto più bello tosto ecco duro sì auguri per questo perché avrai tanto lavoro capito perché hai detto a quattro mani perché c'è un lavoro bello tosto bello tosto non da poco volevo chiederti dove ti possono trovare sui social allora mi possono mi possono trovare su facebook il nome è Marta Serra ovviamente oppure su instagram serratriottimobassomarta questi qua sono i due social che utilizzo di più sostanzialmente non ho siti ho questi due social quindi ti trovano con la tua faccia insomma alla fine ti vedo sì sì giusto ok vogliamo ringraziare la nostra ospite Marta Serra grazie mille a voi per questi due meravigliosi libri augurandole buon lavoro per il terzo che è sempre quella camminata di Tori International la nostra conduttrice nonché vice elettrice dell'AtletiU e a tutti quanti i nostri telespettatori augurandovi buona visione ciao ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.